Marco Mari, quali sono le opportunità ma anche le criticità che vengono evidenziate dal nuovo regolamento sui CAM? Sono varie. Il punto uno è che i criteri ambientali minimi fanno parte di una tendenza ampia di acquisti verdi per il sistema edificio. E questo è in un'onda e in una modalità internazionale che quindi non riguarda solo la pubblica amministrazione. Il secondo elemento positivo è che specializzano e richiedono attenzioni particolari non solo alle imprese ma ai produttori di prodotti da un punto di vista ambientale. E la particolarità qual è? È chiaramente legata a un fattore culturale. Le micro e piccole imprese, da qui la nostra ricerca e l'analisi che abbiamo fatto commissionata da CNA, imprese di pulizia, le micro e piccole imprese potrebbero essere uno, preoccupate e questo lo sono, due, messe in difficoltà in alcuni casi. La realtà che stiamo verificando però è che il settore sta cercando una professionalizzazione importante e quindi questi sono elementi che differenziano le imprese che in qualche maniera approfondiscono. Il secondo tema è che essendo queste delle richieste nazionali ma su una cultura internazionale, avendo l'Italia già molte normative dal punto di vista ambientale, applicarli non è difficile perché arriviamo semplicemente a dare una valorizzazione di cose che in buona parte già stiamo facendo. E visto che non tutti i paesi stanno facendo cose su richieste di legge così importanti, questo ci mette in una posizione di vantaggio. Quindi da una parte è necessario un cambiamento culturale, vederli positivamente, dall'altra questo può essere un vantaggio importante per le piccole micro imprese. L'Italia è attenta a questo settore? Allora, l'Italia rispetto ai CAM è in questo momento il numero uno, il paese che più in assoluto ha puntato su strumenti come i criteri ambientali minimi per le pubbliche amministrazioni e quindi chiedendo alle pubbliche amministrazioni di fare a loro volta un passo in avanti introducendo questi nelle gare. Anche questo è un qualcosa che sta arrivando pian piano. Ma è avanti perché ne ha richiesto un'applicazione pressoché obbligatoria, ma è avanti perché la qualità dei servizi, della progettazione dei servizi e la qualità dei prodotti che abbiamo comunque in Italia è già alta. Quindi ci posiziona su un gradino alto. Grazie.